La bellezza nella fragilità è l'azzeccato titolo che Carita Sticino ha posto in questo percorso proposto a volontari, professionisti, persone interessate al mondo dell'anziano. Lo abbiamo fatto con un filosofo, con uno psicologo, con un medico e con una psicogeriatra che ci hanno accompagnato alla scoperta di sguardi diversi rispetto al mondo dell'anziano, sia nel volontariato sia nel professionismo. E questo ha fatto trasparire un interesse accresciuto sera dopo sera e direi uno stupore nei partecipanti nello scoprire o nello riscoprire aneddoti e informazioni che possono portare ad accompagnare in modo volontario l'anziano in un modo diverso. Lo sguardo di chi cura, ma questo non vale solo per gli operatori sanitari, decide sulla voglia di vivere. Come per dire un bello sguardo, una benevolenza, un'amorevolezza verso la persona anziana, decide sulla voglia di vivere. Questo vi assicuro che è fondamentale. Chiaramente non è lo sguardo, ma è il modo di fare, di rapportarsi, la prossimità. L'aspetto dello sguardo significa l'esserci, significa interessarsi alla persona, significa condividere, significa soprattutto valorizzarla e far capire che uno non cura per guadagnare lo stipendio, ma che cura per un interesse a quella persona. E il primo interesse è la disponibilità, non farsi rubare il tempo da altre cose meno importanti e poi soprattutto far parlare le persone della loro vita, di quello che hanno vissuto in passato. Questo li valorizza molto ed è la chiave per entrare in contatto con loro. E dopo, quando c'è questa alleanza terapeutica, allora sì che possiamo parlare anche magari degli ultimi giorni e di quello che uno si prefigura. Quante persone mi hanno detto, no, no, io sono pronto, se il Signore mi chiama, nessun accanimento, nessuna intubazione, nessuna manovra violenta, ma bensì l'accompagnamento. Tanto più io invecchio, tanto più il mio contesto relazionale, affettivo e fisico diventa importante. Qualcuno che mi porta a rivedere i posti che amo, ma non dico solo a far la spesa, a fare queste cose che sono più bisogni, ma qualcuno che mi porta a vedere i posti che ami. Quella piazza, quella chiesa, quell'incontro, quella festa, capperi, quella roba lì, che diventa uno spazio fondamentale per essere riconosciuti da se stessi, prima di tutto che mi ritrovo in questa cosa, di essere riconoscibili e di essere di spazio di crescita anche per altri. Il volontariato si presenta ai nostri occhi come una specie particolare di azione umana. Perché è particolare? Perché appunto è un tipo di azione che mette in connessione due altri tipi di azione, il dono o la donazione e la cura, che di per sé sono differenti. Donare qualcosa non significa per forza prendersi cura di qualcuno, e curare qualcuno non significa per forza donare qualche cosa. Tanto è vero che un medico a cui paghiamo una prestazione si prende cura di una malattia, ma non siamo nella dimensione del dono. E d'altra parte si può donare, per esempio, donare un regalo a Natale, è semplicemente una manifestazione indubbiamente di un bene che si ha verso l'altro, ma non è di per sé prendersi cura dell'altro. Il volontariato ha la straordinaria possibilità di legare insieme queste due dimensioni della vita umana. Il rapporto è un principio assimilabile ad un contratto, nel quale si fa una negoziazione, si giunge a stabilire delle regole e in cui a un bene offerto corrisponde un bene acquistato. Allora, sembra una transazione economica, perché uno diceva, beh, ma allora prima ci avete raccontato tutt'altro, adesso dite che alla fine una relazione è come un contratto. Ma attenzione, perché Pierpaolo Donati, che è un esperto di queste questioni, dice che i beni che ci scambiamo, i beni più preziosi che ci scambiamo, sono beni relazionali più che cose, quindi non sono le cose che ci scambiamo, ma i beni di relazione. Dentro questo, quali sono le basi di questa alleanza? Nel caso specifico, il contratto riguarda evidentemente l'anziano e il volontario, è quello che possono scambiarsi in conoscenza, aiuto, sostegno, eccetera. Seguo un'anziana di 97 anni. Vengo da Etiopia e vivo a Paradiso da 19 anni. Mio papà aveva una mensa per i poveri, un piatto caldo al giorno. Noi figli dobbiamo servire, per me fare volontariato è una cosa automatico. Mi piace il mio mondo, sono nata, cresciuta, magari per fare quello. Le persone anziane sanno che quelle persone che vengono da me regolarmente, una volta alla settimana, ogni volta due settimane, sono quelli che nella loro testa sono comunque. Che se non vengono me lo dicono, io capisco che non vengono, anche se magari a volte possono essere esigenti e dirti ma come non vieni. Però allo stesso tempo, dentro quello spazio lì, possono andare a fare quella roba meravigliosa che è non andare in una terra incognita, in una terra desolata, ma quando ci sono queste basi sicure, esplorare davvero quel cambiamento del mio corpo, della mia psiche e del mio modo di essere, per poter andare a vedere cosa vuol dire davvero poter invecchiare. E questa è una frase importante. I fattori che contribuiscono alla qualità e in parte anche alla durata della vita sono in larga misura indipendenti dal sistema sanitario. È una frase pesante, detta soprattutto da un medico che ha dedicato la vita a curare le persone. Solo il 10-20% dei contribuenti della salute sono dovuti al sistema socio-sanitario, diciamo. In larga misura, quasi il 50%, il benessere della persona anziana o della persona to cure è dovuto alla cultura, all'educazione, all'economia e all'alimentazione. Una buona parte è dovuta all'ambiente, poi c'è l'ereditarietà genetica e questo non possiamo sceglierci i genitori, quello che ci troviamo, ci ritroviamo. Vedete, la metà è cultura e la cultura che Caritas vuole diffondere con questo percorso è proprio la cultura della amorevolezza, dell'affettività, della solidarietà, della carità che sta dietro e che è conveniente, ma non solo per chi ne beneficia, ma anche per chi la esercita. I volontari coprono l'attività delle nuove povertà che ci sono oggi con le quali siamo confrontati, quindi la nuova povertà principale è la solitudine. La Casa Anziani, ma più in generale il Comune di Paradiso, è particolarmente grato alle attività che i volontari svolgono. L'attività del volontario finisce laddove comincia l'attività del professionista. E questo è importante perché il volontario non può e non deve, non è giusto che sia, sostituirsi all'infermiere piuttosto che all'animatore, ma per questioni anche di conoscenza dell'ospite stesso. Il volontariato allora che cos'è? È una cura donata a qualcuno che nella misura in cui si prende cura di un aspetto della persona è in quel momento stesso in contatto con l'intera persona, ha a che fare con l'intera esistenza e l'intero mistero dell'altro. Sapete a qualità somiglia di più l'invecchiamento? All'adolescenza. Perché in adolescenza cambia il corpo, cambia la mente, cambiano le emozioni, cambia l'apertura al mondo. E' esattamente la stessa cosa a specchio che succede nell'invecchiamento. Quindi quando viene abbinato invecchiamento e bambini io dico sempre ma a me sembra veramente uno spazio molto più vivace. Quindi piccolo Vag de Mecom non è l'età che segna l'inizio della vecchiaia, ma l'assenza di progetti di vita. E sapere che qualcuno verrà a casa mia o che qualcuno mi porterà fuori il primo martedì del mese mi cambia completamente la vita. Il gesto del volontario è primariamente un gesto di donazione. La sua priorità è che l'altro si senta beneficiario di qualche cosa che gli viene offerto gratuitamente perché quella persona ci interessa. Soprattutto i volontari hanno accesso a un sacco di ricordi. Hanno accesso a un sacco di racconti e questi ricordi e questi racconti riempiono, trasportano, ci portano in altri mondi. Ma questo linguaggio è veramente l'espressione di quello che la persona è e di questa interdipendenza e circolarità che ci sono fra la mia esperienza immediata di anziano, la mia esperienza di senso dove mi ritrovo e mi riracconto la mia storia e quello di chi mi ascolta che mi fa domande ma non necessariamente con la voce perché a volte i volontari in tutti questi anni soprattutto di ospedale ho visto che sono degli ascoltatori fantastici ma l'interesse che c'è nei loro occhi è mille volte ancora meglio di tante domande perché è quel capperi ma mi stai raccontando una roba interessante, utile e poi è quasi quel essere sospesi perché quanto fa bene sentirsi ascoltati? Io sono stata sempre fortunata questi 15 anni ho seguito solo 4 anziani due dopo 6 anni mi hanno lasciato dopo altre anche dopo 3 anni adesso ultima ho 3 anni io vado fino a fondo perché un anziano un libro antico complesso sempre c'è qualcosa da scoprire molto bello veramente ci vuole umiltà l'amore Molte sono le suggestioni e molti sono i suggerimenti che sono emersi in queste serate vale la pena provarci ci ricordava una volontaria e quindi come cari Tasticino anche noi tentiamo di capire quali percorsi nuovi possono essere messi in campo l'ultima serata ci ha lasciato in eredità anche alcuni percorsi che abbiamo condiviso insieme che fare oggi cosa immaginare d'altro c'era una richiesta c'era una richiesta in parte sottesa in parte esplicitata di dare continuità di dare forza alle riflessioni ma soprattutto il desiderio di incontrarsi per potersi raccontare e poter in qualche modo condividere le proprie fatiche le proprie ambizioni quindi non tanto focalizzarsi su un volontariato di Cari Tasticino ma creare spazi luoghi di condivisione riflessione dove poter in qualche modo ritrovare anche una comunità intorno nella quale potersi riconoscere allora alcune proposte una la formazione arriviamo da questo percorso di cinque serate ma in realtà immaginiamo che possa continuare come è tutto da scoprire ancora non abbiamo una progettualità già compiuta certo è che la condivisione delle prassi la condivisione delle storie la condivisione anche delle fatiche oltre che delle aspettative delle speranze è un tema quindi la formazione potrebbe passare sicuramente da questo spazio quello che è emerso è la richiesta di informazioni anche e di condivisione in un modo diverso per esempio una newsletter o una many list che possa in qualche modo in modo virtuale legare tante persone che con un click in qualche modo possano ricevere ascoltare avere informazioni accedere a tutta una serie di link che possono essere interessanti e poi c'è invece una condivisione più concreta più reale serve un posto per fare questo abbiamo immaginato che la sede di Caritas Ticino possa diventare questo posto un luogo che possa essere luogo fisico di incontro delle persone dei volontari che possano sentirsi accolti in un luogo che possa far raccogliere un po' le loro storie la condivisione dei percorsi e possa tematizzare anche le loro fatiche i loro desideri e le loro speranze ci piace l'idea che quella suggestione l'anziano un libro antico in qualche modo faccia parte di questo percorso come un momento fondante anche per noi di ripartenza progettuale e fare volontariato una crescita personale secondo me mi aiuta a vivere vale la pena provarci di ripartenza di ripartenza